Nel mese di novembre la LILT propone la campagna nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili in Astro Blu 2024. La neoplasia più frequente negli uomini è il tumore della prostata e più rari il tumore del testicolo e il carcinoma del pene. Il cancro alla prostata rappresenta il 18% dei tumori diagnosticati nell'uomo. Intervenire in tempo significa una maggiore curabilità della malattia. Non bisogna eludere i controlli a partire dai 50 anni di età così da intercettare per tempo l'eventuale malattia o escluderne la presenza grazie a una visita mirata. La campagna è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei 20 anni per la prevenzione del tumore ai testicoli perché meno del 5% di loro ha fatto mai una visita urologica. Astro Blu intende potenziare l'impegno della LILT nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo volte a sensibilizzare la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale.